Hanno risposto in 19 al primo appello del Consiglio Comunale di Marsala, svoltosi ieri sotto la presidenza di Enzo Sturiano e con un unico punto all'ordine del giorno, il bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2019. Sull'atto, dopo l'illustrazione tecnica del dirigente Filippo Angileri, le relazioni dell'assessore Michele Milazzo e del presidente della commissione bilancio Pier Giorgio Giacalone, sono intervenuti i consiglieri Coppola e Fici. Quindi la convocazione, 18 consiglieri si sono espressi favorevolmente, mentre si sono astenuti Vinci e Coppola, motivandone in aula il voto stesso. Ad approvazione avvenuta, il presidente Sturiano ha dato spazio alle comunicazioni. Fernandez ha richiamato l'attenzione dell'amministrazione sui bagni pubblici del mercato, affermando che sono spesso chiusi nel pomeriggio. Ferrantelli ha chiesto l'intervento del sindaco per risolvere il problema delle prenotazioni vaccinali degli ottantenni, obbligati dalla piattaforma informatica a scegliere Favignana. Fici ha chiesto di acquisire tutti gli elementi utili riguardanti il padiglione per malattie infettive destinato all'ospedale di Marsala, al fine di discuterne nella seduta di mercoledì, come stabilito dal presidente Sturiano, ringraziando contestualmente lo stesso presidente per l'accesso agli atti in merito, già richiesto all'ASP. Altra comunicazione di Fici ha riguardato Marsala Scola e lente mostra, con particolare riguardo ai compensi dei componenti del CDA. Il sindaco Massimo Grillo ha risposto al consigliere Ferrantelli, affermando di aver inviato, in merito al problema vaccinazioni, specifica nota all'ASP. Ha altresi chiarito che il problema tecnico-informatico che ha creato disagi agli anziani sembra essersi risolto. Inoltre ha aggiunto che al fine di accelerare la campagna vaccinazioni, molto probabilmente, l'ASP impiegherà anche il campus biomedico, un immobile di valore notevole regalato all'ASP con un semplice verbale e di cui dovremmo rivendicarne la proprietà, provando così a ridarne la destinazione iniziale a corsi di laurea in infermieristica. Poi il sindaco Grillo ha risposto al consigliere Fici, affermando che il CDA di Marsala Scola è composto da funzionari comunali senza compensi, che hanno concluso il mandato a febbraio e hanno prodotto una relazione conclusiva in cui emergono tante criticità che meriterebbero approfondimenti anche da parte del Consiglio Comunale. Il sindaco poi ritiene inopportuno indicare dirigenti nel CDA. Ci potrebbero essere conflitti di interesse, tenuto conto che ci sono carenze di personale. Optando, ha affermato il sindaco, per un incarico esterno a tempo dei componenti del CDA. Farebbero una fotografia della reale situazione di Marsala Scola, per poi proiettarci verso lo scioglimento dopo un periodo di traghettamento, tenuto conto che non si può, dall'oggi al domani, sciogliere l'istituzione. Prendo atto che ci sono pareri che tendono invece al rilancio di Marsala Scola, ma le proposte sono aperte proprio per essere vagliate dal Consiglio, così come è accaduto per altre questioni. Il presidente suriano ha chiuso i lavori e dato appuntamento alla prossima seduta già convocata per domani.